Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere brevemente i livelli di apprendimento di Gregory Bateson. Sono dei concetti molto semplici ed interessanti che vorrei condividere con voi. Si parte dal livello 0, passando poi per i livelli 1 e 2 e concludendo con il livello numero 3. Livello 0 rappresenta la memorizzazione, questo è il livello in cui accumuliamo informazione, tutto rimane nel quadro della memorizzazione e non riusciamo ad agire e a implementare ciò che abbiamo imparato. Dovrebbe accadere il contrario, imparare al 20% ed agire all'80%. Abbiamo visto nei video precedenti come era scientificamente provato che il 20% delle nostre azioni sarebbe responsabile dell'80% dei nostri risultati. Il livello 1 rappresenta il cambiamento del comportamento, questo è il modo in cui l'informazione acquisita modifica il proprio comportamento, significa che l'informazione è stata assimilata e ci ha fatto comprendere la sua importanza, portandoci a cambiare anche il comportamento. Livello 2 rappresenta il cambiamento di trasformazione, questo è un livello più avanzato in cui il comportamento non è più occasionale, ma è ormai diventato definitivo, ormai avete completamente eliminato i comportamenti precedenti e il nuovo approccio è diventato definitivo. Prendendo ad esempio i discorsi pubblici, consideriamo per un momento che una persona vuole essere in grado di parlare davanti a molte persone. Nel livello 0 lui legge molti libri riguardo la comunicazione, ma rimane nel quadro teorico, senza praticare nulla a riguardo. Nel livello 1 si fanno piccoli sforzi, si parla davanti a degli amici, a piccoli gruppi di persone, portando a piccoli cambiamenti comportamentali. La trasformazione del livello 2 si raggiunge quando finalmente si è in grado di parlare davanti a decine o centinaia di persone, magari presentando un progetto all'università o davanti al datore di lavoro e agli altri responsabili della vostra azienda, eccetera. Il livello 3 poi rappresenta il cambiamento evolutivo. Questo è un livello molto alto in cui la vostra trasformazione porta ad una trasformazione massiccia. Qui possiamo fare l'esempio di Viktor Frankl e della sua teoria del significato. Il cambiamento del significato che lui ha dato a quello che gli era accaduto nel campo di concentramento ad Auschwitz ha fatto sì che lui creasse un grande progresso nella psicoterapia, scoprendo e sviluppando la logoterapia, che ha portato un grandissimo contributo nel mondo della psicologia, aiutando moltissime persone. Però questo è il grado più alto del cambiamento e non si può raggiungere se non si passa dal livello 0, quindi dalla memorizzazione, dal cambiamento del comportamento e quello della trasformazione. Questi erano i livelli di apprendimento di Gregory Batson. Sono dei concetti molto importanti ed interessanti che spiegano la differenza tra teoria e pratica soffermandosi sull'importanza che l'azione ha nella nostra vita. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio della vostra attenzione. Ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!